Covid-19 è attenzione al rientro dalle vacanze, soprattutto se si scelgono alcune mete. Oltre ai paesi dell'est Europa, ora la preoccupazione è per la Croazia. Oltre al caso dei cinque giovani bassanesi con le famiglie ore in quarantena, anche a Vicenza si registrano due casi positivi e sempre dopo la vacanza in Croazia. Non sono ricoverati, però sono stati identificati dal servizio di igiene pubblica come positivi al rientro dalle vacanze in Croazia. A questi si aggiunge un giovane rientrato dalla Spagna dopo alcuni giorni del suo ritorno, ha cominciato ad accusare i sintomi. Le frontiere non sono chiuse, ma è importante seguire le raccomandazioni. Raccomanderei sicuramente per chi decide di andare in vacanza in questi luoghi, particolare attenzione, l'uso della mascherina, il distanziamento sociale, lavarsi le mani frequentemente, perché sono zone in cui è probabile che il virus circoli più frequentemente che non in Italia. Intanto all'ospedale San Bortolo di Vicenza la situazione rimane stazionaria, con tre persone ricoverate in terapia intensiva e tre a malattie infettive, mentre si lavora sulle nuove disposizioni e i pediatri di libera scelta per il rientro a scuola. Abbiamo messo a disposizione due ambulatori, uno ad Arginiano e uno a Vicenza, per l'effettuazione dei tamponi. Adesso vediamo un pochino come va, in un momento un po' tranquillo, proprio in vista dell'inizio delle scuole. Abbiamo circa una quarantina di disponibilità al giorno per questi tamponi, per i bambini. I pediatri dovranno fare una diagnosi differenziale tra l'influenza vera e propria o le sindrome parainfluenzali e un eventuale Covid. I pediatri dovranno fare un po' tranquillo, per i bambini.